Spazio Ragazzi è un'associazione di volontariato che ha come obiettivo la formazione di noi giovani e ci aiuta a crescere insieme, a collaborare e tra le varie esperienze c'è appunto quella dei quadriplastici. Il nostro lavoro, il nostro obiettivo è quello di mostrare a ognuno di noi le proprie capacità. Essendo un gruppo ognuno mette in pratica la propria dote, la propria arte. Ad esempio come quest'anno abbiamo realizzato noi a mano il cagnolino, la mucca e poi ci sono anche altri oggetti come l'anello, tante altre piccoli particolari che cerchiamo di realizzare il più perfettamente possibile. Il tempo scorre e speriamo di farcela quest'anno e di stupire ancora una volta.